Ciao benvenuta ad Antonio di Calzature Nucca, oggi siamo qui per una nuova puntata dello stock sui sandali. Oggi le offerte sono ancora più scandalose del solito, passiamo a una nuova linea di sandali tutti a 69 euro quindi insomma puoi trovare davvero pane per i tuoi denti. Ti ricordo che alcuni giorni fa abbiamo pubblicato il video con le offerte a 79 euro, quelle restano valide e per vedere tutto puoi iscriverti al nostro canale youtube Calzature Nucca così potrai sempre avere i video in anteprima e scoprire le nostre offerte. Ti ricordo e questo è molto importante che tutte le scarpe che trovi in offerta fanno parte delle nostre collezioni dell'anno precedente quindi sono scarpe che vanno dai 150 ai 250 euro di valore e anche di più qualcuna e quindi il prezzo che trovi è di assoluto realizzo e serve proprio per liberare il magazzino per darti la possibilità anche di provare le nostre scarpe con un pezzo di pane. Bene detto questo è il momento di andare a vedere quali sono le offerte dei sandali stock 69 euro. Eccolo qui partiamo subito con una ciabattina di cui è rimasto solamente il 38, è fatta in pelle stampata a oro e camoscetto, questi fiocchetti in camoscio, tutto in pelle, lavorazione artigiana 69 euro il prezzo. Poi partiamo con il sandalo di albano, questo è fatto con le borchette, costava 138 euro, ora appunto 69, tacco 33 centimetri in color bianco, il numero disponibile sono il 37 e il 38 quindi due numeri piuttosto deliziosi e centrali come anche il sandalo dello stesso tipo in color nude, anche qui abbiamo il 37 e 38 e anche qui 69 euro. Andiamo avanti sempre con albano ed è rimasto anche qui due numeri 39 e 41 di questo sandaletto che è andato veramente molto ed è rimasto il color nude, è quello qui con due fasce e sempre il tacco 30. Proseguiamo questa volta con Jeannot, questo qui, questo Jeannot specialista di sandali, ottimi sandali, qui c'è solamente il 35 e anche qui il prezzo è veramente invitante e sempre della stessa azienda, abbiamo anche qui un 35 solamente e in questo caso un sandaletto nero con questo accessorio in perla e camoscio, molto bellino anche questo, sempre fondo buono. Bene proseguiamo ora con dei sandali con il mezzo tacco scamosciati di un gusto davvero davvero raffinato. Ecco il primo, questo di Roberto Festa fatto in camoscio color bruciato con la perla centrale tacco 40 abbiamo il 7 e il 37 e mezzo c'è anche la versione in nero in cui c'è il 35 e 37 e 40 anche qui è piuttosto raffinato elegante ma però visto il tacco è un sandalo portabile quotidianamente. Certamente non è un sandalo sportivo, come non è sportivo questo bellissimo, rosa, sempre di Roberto Festa, numero 36, tacco 50. Lo stesso sandalo c'è anche in nero e qui abbiamo il 38, il 38 e mezzo, il 40, ti faccio notare il fiocco che è nero e oro che rende veramente chic il tutto. Proseguendo con i nostri sandali scamosciati di classe c'è anche questo di Jeannot che è in camoscio rosso, qui abbiamo solamente il 36, 69 euro il prezzo anche qui e chiudiamo questa parte dedicata ai sandali scamosciati con il blu, un blu un po' elettrico molto grintoso e qui abbiamo il 36, 37 e 38 e mezzo con un bel fioccone. Ecco questi ultimi due posso dirti anche che calzano piuttosto asciutto magro quindi adatti ai piedi un po' più magri che di solito scappano. Ecco è il momento ora di vedere invece dei sandali sportivi sempre con il tacco e hanno delle caratteristiche per cui sono veramente interessanti, li vediamo. Partiamo con questo sandalo di Jeannot & Jeannot, come vedi il tacco cuoio è tutto in bianco, suola di cuoio, è rimasto il 36 e il 39. Calza molto bene per un piede asciutto anche questo piuttosto magro. Poi abbiamo questo sempre di Jeannot, bellissimo con il doppio cinturino alla fascia con le borchette e il tacco di 6 centimetri. Qui abbiamo disponibile solamente il 35. Lo stesso modello è disponibile anche in bianco in questo caso però il numero è il 40 quindi andiamo su un bel piede e per chiudere questa linea c'è anche la ciabattina questa è molto bella perché è regolabile sia qui qui e anche qui quindi adatta a vari diversi tipi di piede e in questo caso abbiamo il 36. Restando su questo tema grintoso c'è questo sandalo di Ettore Lami bellissimo con il nero con il bottone così in nero e il tacco particolare, vedi un po' svasato, qui abbiamo disponibile solo un 38. Infine un bel sandalo in cavallino, color cuoio e cavallino di Roberto Festa, qui abbiamo disponibili il 36 37 e anche qua lo puoi avere a questo prezzaccio. Pronto per gli ultimi sette pezzi? Ti ricordo fra parentesi che se vuoi mi puoi mandare un messaggio per poter provare il sandalo che ti piace quindi potremmo anche metterlo da parte magari vieni il giorno dopo in negozio quando hai la possibilità. Partiamo con un'opera d'arte guarda questo sandalo incastronato di pietre perle in metallizzato oro, c'è un 37 e mezzo costava 219 euro e ora 69 quindi capisci il livello. Poi c'è questo sandalo di Jeannot in raso con questo accessorio color nude, tacco 70, qui invece abbiamo disponibili 35 36 37 e 38. Dello stesso sandalo c'è anche la versione nera, eccolo qui, qui in questo caso 37 37 e mezzo e 40. Poi abbiamo un sandalo bianco con accessorio centrale tutto in pelle col tacco di 7 cm e un leggero plateau che veste molto bene il piede e di qui incredibilmente 39. Sì perché non resta mai di solito. Poi ti faccio vedere questa linea fatta con il plateau, il tacco e il plateau, molto comodo, il tacco è di 6 cm e il plateau è di 3, quindi in realtà è come fosse un sandalo basso, c'è solo un 38 nel colore oro. Abbiamo un 35 nel colore rosa antico che anche qui puoi avere a 69 euro e infine la versione nera di cui anche, che è questa, la vedi in camoscio nero, saperebbe lo stesso tacco e plateau, anche qui naturalmente il nostro amico 35. Bene hai preso appunti? Se sì ti aspetto a San Bonifacio in corso Venezia numero 13, sarò qui ad attenderti per poterti fare vedere questi modelli da 69 euro stock ma anche quelli da 79 che sono sempre disponibili e ti invito altrimenti di visitare il nostro sito calzaturenucca.it e poterli acquistare in totale autonomia. Da Antonio è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!